Paradesi fiscali e criptovalute. Oggi cerchiamo di capire dove andare, dove trasferire la propria residenza fiscale e come fare trasferire la propria residenza fiscale in determinati paesi che non tassano le plusvalenze, i capital gain da investimenti in criptovalute. È un tema sicuramente all'ordine del giorno, ma praticamente ormai da anni direi all'ordine del giorno, soprattutto in virtù ed in vista di eventuali sviluppi che seguiamo sull'andamento dei mercati finanziari. Siamo partiti con il botto, in questo momento la situazione non è quella di qualche tempo fa, ma sicuramente se ne vedranno delle belle, se non in termini di realizzazione di reti, di capital gain, in termini di criptovalute, sicuramente se ne vedranno di scenari interessanti perché oggi in realtà la cripto dà la possibilità di investire in start-up e aziende che investono invece in blockchain. Allora andiamo a vedere quali sono i paesi più interessanti in termini non solo di tassazione, ma anche di sviluppo sotto il profilo legale e fiscale di piani di implementazione di free zone o comunque di action plan che vanno a sviluppare e a concedere benefici agli imprenditori della blockchain. Noi sappiamo che quando la cripto è intervenuta, quando la blockchain è intervenuta insieme alla possibilità di comprare, di investire in cripto, c'è stato un casino in generale per utilizzare un termine assolutamente corretto, un casino in termini di incertezza, in termini di smarrimento, sia sui mercati ma soprattutto per quanto riguarda le singole legislazioni, delle singole giurisdizioni che non erano assolutamente pronte. Oggi ci troviamo in realtà con tassazioni che vanno dal 26 per citare per esempio la realtà italiana al 37 per citare invece la realtà statunitense. In realtà alcune giurisdizioni si sono sviluppate, si sono adeguate nel tempo con regolamentazioni piuttosto che con leggi ad hoc per andare a detassare o quantomeno ad agevolare gli investitori e gli imprenditori di questo tema, di questa blockchain. Quali sono le giurisdizioni in un ordine sparso di mia invenzione, ma sicuramente tutte esattamente interessanti, te lo dico da un secondo. E partiamo con la Germania, perché? Perché è Unione Europea, perché praticamente è un passo da voi italiani e non da me che in questo momento in cui starei ascoltando il video non ho idea di dove mi troverò, ma sicuramente è un paese molto legato all'Italia sotto tutti i punti di vista economico, sociale, europeo, eccetera eccetera per quanto riguarda le diatribe dell'ultimo momento, cioè Europa sì, Europa no. Ma al di là di questo, che ci interessa assolutamente nulla in questo video, andiamo a vedere perché la Germania è interessante quando si parla di blockchain e di crypto. Ebbene, in prima approssimazione è perché non esiste l'IVA sulle transazioni fatte con la blockchain, quindi la Germania non va a applicare la sua alicota IVA in ogni transazione che tu puoi pensare di fare, tipo in qualsiasi cosa che decidi di acquistare tramite le crypto. E soprattutto, questo è forse sicuramente l'aspetto più interessante, la Germania non tasse le plusvalenze da capital gains e l'investimento in crypto valuta dura per lo meno un anno. Quindi, come dire, si va ad agevolare l'assenza di un intento speculativo di breve termine. La Germania dice se tu investi e ragionevolmente hai intenzione di mantenere quell'investimento in crypto valuta per lo meno per un anno, allora io non intervengo tramite tassazione del capital gains. Sì, hai capito esattamente. 0% di tassazione se l'investimento in crypto valuta dura per un periodo superiore a un anno. Prendiamo in considerazione il fatto che Berlino, tra le tante città della Repubblica Federale Tedesca, dico sciocchezza, non esiste più. Della Germania è un hub della blockchain di tutto rispetto, quando guardiamo soprattutto alle realtà europee, in questo momento ci sono circa 200 società attive nel settore, ma dal 2019, già nel 2019, quindi in questo momento in piena implementazione, è stato sviluppato un piano, comunque si sta prendendo corpo, un piano di sviluppo per coadiuare gli imprenditori della blockchain. E come si fa a prendere la residenza fiscale in Germania? Beh, presto detto, è piuttosto semplice, vale per quanto riguarda la Germania la regola dei 183 giorni, per cui se sei in grado di rimanere perlomeno per 183 giorni all'interno della Repubblica Tedesca o se per esempio sei un lavoratore dipendente distaccato in Germania per motivi che attengono al gruppo multinazionale o alla società che ti ha spostato, lì io al posto tuo, se sei un investitore, se ti interessano le criptovalute, prenderei seriamente in considerazione l'idea di cambiare residenza fiscale, quindi chiaramente per prendere la residenza fiscale in Germania non puoi più averla in Italia, quindi ti consiglio l'iscrizione aere, anagrafe degli italiani residenti all'estero. Quindi la Germania è la prima nella nostra classifica, ma è una classifica, lo ripeto, che non segue la validità nella misura in cui tutti i paesi che andremo a citare non tassano le criptovalute, per cui sta a te capire qual è la qualità di vita che ti aspetti dal paese all'interno del quale desideresti vivere. Numero 2, passiamo invece a Singapore, spostiamoci sul nostro planisfero, andiamo dall'altra parte del mondo praticamente in pieno sud-est asiatico, Singapore è una piccolissima repubblica all'interno del sud-est asiatico, mi sentirei di dire alla luce delle mie esperienze, obiettivamente anche quella più che sviluppata, quella sicuramente più occidentale tra le varie giurisdizioni del sud-est asiatico. Singapore è interessante per quale motivo? Perché ha un'agevolazione indiscriminata, ossia sia nei confronti delle persone fisiche che nei confronti delle persone giuridiche, cioè delle società, per cui gli investimenti di lungo periodo in cripto non sono sottoposti a capital gain. Qual è il requisito per poter accedere alla detassazione sulle plusvalenze da capital gain? Ancora una volta è l'acquisizione della residenza fiscale. Non prendiamoci in giro, chi gira per il mondo come me o si è trovato a Singapore o a qualsiasi altro paese extra web per ragioni di lavoro personali o perché è stato di nuovo mandato dalla propria società a svolgere rapporti di un qualsiasi tipo lavorativo, sa perfettamente che acquisire un visto extra, cioè in un paese extra web, è particolarmente complicato. In Singapore le regole del gioco non cambiano, ti posso assicurare che non è assolutamente semplice. È chiaro che laddove l'intenzione è obiettivamente quella di permanere per un lungo periodo di tempo, appunto c'è un distacco di personale, perché magari se è un lavoratore dipendente, di nuovo facciamo attenzione, l'investimento in cripto interessa praticamente chiunque, si può essere investitori anche lavorando per terzi e non per forza essendo un imprenditore, per questo lo ribadisco nel corso del video, è sempre possibile trovare evidentemente la possibilità di rimanere in Singapore nel lungo periodo e quindi acquisire la residenza fiscale. Quello che sicuramente devi sapere che, come dire, può interessarti è qual è la situazione in questo momento sotto il punto di vista blockchain, rimanendo il tema del video che stai ascoltando, e cioè che l'autorità monetaria di Singapore, l'IMAS, sta lavorando all'agremente di reale a un progetto che insieme con i servizi finanziari cosiddetto Ubin, porta appunto allo sviluppo, tenta di sviluppare un environment favorevole per la blockchain. Di nuovo, i paesi che stiamo citando sono tutti volti in questo senso, quindi sono interessanti non solo per il motivo fiscale, ma anche per l'agevolazione che l'imprenditore può prendere da uno sviluppo del genere, della normativa, della regolamentazione, perché la regolamentazione è comunque una normativa specifica che è la prima cosa che dovessi prendere in considerazione se vuoi investire in cripto. Quindi piuttosto di andare in paesi dove non c'è o dove c'è l'assenza totale di regolamentazione, che era quello che era successo per esempio in Italia, ma in realtà in tutte le altre giurisdizioni, all'inizio ti conviene andare invece in paesi che si sono mossi per tempo. Questo perché chi si è mosso per tempo l'ha fatto evidentemente in senso agevolativo, chi si è mosso dando invece la possibilità all'amministrazione finanziaria, che è quello che è successo in Italia, di esprimersi prima ancora che ci fosse una legge sull'argomento, evidentemente non ti dico che ha fatto i casini, ma sicuramente non si è mossa pro contribuente, sicuramente si è mossa pro fisco. E andiamo al numero 3 della nostra classifica. Al numero 3 della nostra classifica troviamo il Portogallo, questa nazione straordinaria che ha le porte a due ore e mezza, se non tre ore, a seconda di dove prendi l'aerio da Roma o da Milano, quindi estremamente vicina all'Italia, con una cultura assolutamente mediterranea, quindi del tutto, nonostante affacci sull'oceano, ma è del tutto mediterraneo e del tutto simile alla nostra ha deciso, ancora una volta, non è nuovo in termini di incentivi fiscali evidentemente, ha deciso anche su questo argomento di detassare le plusvalenze da cripto, soprattutto anche qui come in Germania non si applica l'IVA alle transazioni da cripto, perché anche in Portogallo la criptovaluta è assimilata in tutto per tutto ad una valuta corrente, quindi non è successa a trastazioni, né IVA, né le transazioni, né di income tax o di capital gain tax quando andiamo a investire, a realizzare plusvalenze. E qual è chiaramente il modo di prendere la credenza fiscale in Portogallo? Beh, vi sapete che in Portogallo in realtà la regola è un po' più varia di quella di 183 giorni, ossia che 183 giorni si applicano evidentemente, sicuramente, quindi se permani sul suolo portoghese per oltre 183 giorni e allora puoi ottenere la residenza fiscale in Portogallo, ma in realtà il codice tributario portoghese ti dice che nella misura in cui manifesti la tua volontà di voler risiedere all'interno del territorio portoghese, vieni considerato automaticamente un contribuente, un taxpayer, un residente fiscale portoghese, quindi se io vado in Portogallo, compro casa o prendo casa in fitto per 5 anni, per un anno o apro un conto corrente e mi comporto in una parola come se il mio centro di interessi vitali fosse da rideterminare all'interno del suolo portoghese e allora, senza aspettare 183 giorni, il fisco mi considererà, il fisco locale mi considererà un suo contribuente, un suo residente fiscale. Per quanto riguarda invece le agevolazioni che vanno al di là della capital gain tax, che ricordiamo non c'è in Portogallo quando si parla di cripto, prendiamo in considerazione che il governo portoghese ha varato un piano, un action plan per lo sviluppo e l'implementazione di free zone tecnologiche, in cui appunto al di là del beneficio fiscale ci sono anche numerosi imprenditori e agevolazioni, per questa volta appunto non tanto per gli investitori, ma per gli imprenditori che desiderano sviluppare progetti o start up all'interno della blockchain, del settore della blockchain.